Qual è l'impegno di Snam Rete Gas per promuovere l'interoperabilità come chiave di accesso ad un effettivo mercato unico europeo del gas? Snam sta rivedendo tutti gli accordi di interoperabilità con i principali sistemi di trasporto europei che sono interconnessi al sistema italiano gestito appunto da Snam Rete Gas. Parlo in modo particolare del punto di entrata di Passo Gries che è interconnesso con il sistema di trasporto svizzero di Transit Gas e con il punto di entrata e del punto di entrata di Tarvisio che è interconnesso con il sistema austriaco di trasporto. Questi accordi che già esistono sono in fase di revisione per meglio adeguarli a quello che è il dettato anche formale e quindi di contenuti e di modalità con cui questi contenuti devono essere esplicitati in questi accordi li stiamo rivedendo cercando di adattarli a quello che abbiamo in mente per il futuro, per il sistema europeo del gas. Noi pensiamo a un sistema interconnesso in cui tutti gli utenti sono in grado di muoversi liberamente all'interno del sistema senza incontrare ostacoli di natura commerciale o operativa o informativa nel passare da un sistema gestito da un operatore a un altro sistema gestito da un altro operatore, magari anche di un altro paese. Questo è il concetto di interoperabilità così come anche è stato definito nelle linee guida di Acer come scopo dell'interoperabilità ed è questo a cui Snameret Gas sta lavorando con i suoi partner europei interconnessi in questo caso.